Cari amici, mi trovo oggi ad Arese in una mostra eccezionale, una mostra di importanza davvero straordinaria e strategica per il futuro e l'applicazione dell'energia elettrica alle autovetture, all'altro mezzo indispensabile della nostra vita. Qui ad Arese siamo alla Revolution Electric Drive Day, dove proprio viene dimostrato come anche oggi le grandi case automobilistiche sono tutte impegnatissime per cambiare la proposta al mercato, dire viaggiate con energia elettrica. Sono macchine anche di grossa cilindrata, di piccola o di media cilindrata dove è stato applicato il sistema elettrico. Beh ragazzi il risultato è straordinario. La cosa bella per Unendo Energia Italiana è quella che pur avendo iniziato solo nel 2012, passando prima da fotovoltaico, poi attraverso la distribuzione retale di energia, ha la costruzione al Cab di Bologna di un grandissimo straordinario impianto di fotovoltaico per distribuire energia e poi oggi collabora addirittura con i grandi colossi, non solo nel settore automobilistico ma anche in quello energetico, con un impegno che significa che ora una volta le aziende italiane vogliono essere e ci credono davvero essere all'avanguardia anche in questo settore. Ci sono delle cose, le vedrete, delle cose meravigliose. Qui siamo già entrati nel futuro, abbiamo lasciato alle spalle il passato, sembra un gioco di parole ma è così. Unendo Energia Italiana, io sono orgogliosissimo di essere il testimone di un'endo Energia Italiana. Bravo davvero a Giuseppe Pirola e ai suoi uomini che in pochi anni hanno creato davvero una speranza per il futuro, per una eco-compatibilità ambientale che anche civiltà.